Un caro saluto da Mario Lidiasi e agli amici di Quicco Senza. Il consueto appuntamento per sapere che tempo farà in questo fine settimana e nella prossima settimana. Ottime notizie, direi che potrebbe essere la settimana più bella degli ultimi quattro mesi, sia per quanto riguarda le temperature, sia per quanto riguarda le piogge. Per le temperature è previsto un ulteriore calo delle temperature fino a domenica, tanto che entro domenica le temperature massime scenderanno ovunque sotto 30 gradi, sia su Quicco Senza che sulla provincia. Poi, per tutta la prossima settimana, temperature massime intorno a 26-28 gradi. Buone notizie anche per le piogge, perché nella giornata di lunedì vi saranno rovesce temporali diffusi per quasi tutta la giornata, sia su Quicco Senza che sulla provincia. Bene, termino qui. Un caro saluto ancora da Mario Lidiasi.